Ma come dicevo? Perché è il marziale questo? Sono come questa per un'attività di un piccolo C'è il suo manzini Ma non è mai vero Ma è vero anche questo qua Ma è vero C'è un po' che è un'attività E' un'attività Ci sta delestimola Ci sta delestimola E' un periodo dove hai ripreso, stai facendo video? E' un periodo dove hai ripreso.